Ma sostanzialmente non cambia niente e vorrei anche dire che non si può parlare di inasprimento. Si tratta di un'attenzione che stiamo ponendo nei confronti dei comportamenti di tutte le categorie, compresi i ciclisti, per i quali vi sono della mentele da parte dell'utenza. Le infrazioni che più frequentemente vengono commesse dai ciclisti sono quelle del transitare in senso vietato oppure transitare sul marciapiede, facendo così poi arrecano un forte disagio, specie alle categorie più deboli, agli anziani. Un altro settore nel quale stiamo ponendo attenzione è quello delle luci. A questo riguardo io approfitto per fare un invito, per rivolgere un invito a tutti gli utenti per l'utilizzo puntuale delle luci. Premesso che costa meno per disporre delle luci piuttosto che pagare la sanzione, è una questione meramente di sicurezza. Cioè è importante circolare con le luci di sera, di notte, essere ben visibili. E una raccomandazione che faccio è rivolta in particolare ai genitori, perché vedo troppi ragazzi che girano la sera al ritorno dagli allenamenti sulle ciclabili o comunque anche su strada sprovvisti completamente di luci. Quindi vogliamoci bene, vogliamo bene i nostri figli. C'è chi gira, pedala telefonando, c'è chi addirittura scrive messaggi in bicicletta, incredibile ma vero, e c'è chi si indossa le cuffie e quindi vive completamente avulso dalla realtà che lo circonda. Questo è estremamente pericoloso oltretutto. La sanzione è particolarmente pesante, visto come lo chiedeva, sono 160 euro. Nessuna detrazione di punti patente in questo caso, però direi che non vale la pena di rischiare. Direi di rispettare come tutte le norme, di fare attenzione ai diritti degli altri. Un invito anche agli utilizzatori delle biciclette elettriche, che sono tante, che circolano. Qualcuno lamenta la troppa velocità, in qualche caso è vero. Ricordiamoci che sono biciclette che hanno una massa molto consistente e quindi in caso di incidente sono doppiamente pericolose. Grazie.